numero 4 questo olio per cuticole idratante da 12 millilitri è il trattamento perfetto per mantenere le cuticole idratate e morbide indicato sia per le unghie naturali che ricostruite questo prodotto darà un aspetto impeccabile al contorno dell'unghia una delle principali caratteristiche di questo olio per cuticole è la sua praticità la confezione è comoda da portare sempre con sé in borsetta così da poterlo utilizzare in qualsiasi momento della giornata inoltre il dosatore a roll on permette di applicare e dosare il prodotto con facilità senza sprechi puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 l'olio per cuticole maili è una vera e propria pozione magica per il benessere delle tue unghie e delle tue cuticole grazie alla sua formula ricca di estratti naturali e oli vegetali offre una serie di benefici che renderanno le tue mani più morbide idratate e in salute una delle caratteristiche che rende questo olio così speciale è la sua capacità di aumentare l'elasticità della pelle e minimizzare i segni dell'invecchiamento cutaneo con l'uso regolare noterai una pelle più tonica e levigata donandoti una sensazione di freschezza e giovinezza acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 cutex è una marca di prodotti per la cura delle unghie che offre una vasta gamma di soluzioni per contrastare i problemi legati alle unghie e alle cuticole il loro olio idratante per cuticole è un trattamento quotidiano arricchito con olio di jojoba e vitamina e questa formula nutriente non solo idrata le unghie ma ammorbidisce anche le cuticole lasciando le unghie dall'aspetto sano e idratato unghie secche fragili e cuticole secche possono essere fastidiose e poco attraenti tuttavia grazie all'olio idratante per cuticole di cutex è possibile affrontare queste problematiche in modo efficace se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 con la sua formula arricchita di 6 oli vegetali questo olio idratante nutre e rigenera le unghie e le cuticole lasciando le più belle che mai ciò che rende davvero speciale questo prodotto è il fatto che il 99 per cento dei suoi ingredienti sono bio based provenienti da materie prime vegetali e rinnovabili questo significa che puoi prenderti cura delle tue unghie senza compromettere l'ambiente in descrizione trovi il link di questo prodotto